Teulada, 6 anni e 8 mesi di galera su cuoco L'anno 1 di 9 poi ti aveva correo in Saruspa la macchina dei sottos carabinieri L'anno 1 di 9 a 6 anni e 8 mesi di galera poi uno tentato un incidio su cuoco Alessio Madiddu Dei abbandonati di Teulada E la media un noto poi c'era andato a su programma dei Sky 4 ristoranti di Alessandro Borghese Su due ore di Sant'Andrea dei sottos 20, dei sui anni e anni su ore di giustizia Sos carabinieri l'havien buscato in Briago a zero in sa macchina sua Non avea irziu a ese chilometro e che l'havien piato usa patente Iso posia e vendita sa zola in Donaruspa Habia correo sa macchina dei sottos carabinieri E poi Ortebona non l'havien investito Su pubblico ministerio avea pedito poso cuoco setanors de galera Sabocao desimputao, Gianfranco Trullo, Annaua Suzui e Roberto Cao E Madiddu non queria dar pero non danno a sottos carabinieri Ma a posto di un'ora di camera di Ussizu l'ana undennao Alessio Madiddu a posto di imbembeza esattos in galera e nuda Pode disontar esa undenna in Domuzua Gaia di Sessu Zuzui Sos due carabinieri l'havien arrestato Un insegior da Esavocao, Anna Maria Busia Opa a posto di un'ora di sottos carabinieri l'havien investito